L'Arena del Folk a Serravalle di San Marino vi aspetta martedì 3 febbraio per Fisarmonica Romagnola, serata all'insegna della tradizione con i solisti delle migliori orchestre romagnole. Stefano Bandoli dell'orchestra Justin Visani, Deborah Battistini, Gianluca Berardi, Omar Brui dell'orchestra Mirko Gramellini, Edmondo Comandini, Atos Donini, Massimo Fabiani della Nuova Romagna Folk, Luciano Fiorentini dell'orchestra Frank David, Giordano Giannarelli dell'orchestra Brunella e Giordano, Lorenzo Laricchia dell'orchestra Romagna Doc, Patrizio Maestrello dell'orchestra Bucci Band, Giovanni Monti dell'orchestra i ragazzi di Romagna, Gianni Valmori dell'orchestra di Roberta Cappelletti e Bruno Vischi dell'orchestra Castellina Pasi. Interverranno tanti altri Fisarmonicisti. Fisarmonica Romagnola, martedì 3 febbraio all'Arena del Folk, presso le scuole medie di Serravalle di San Marino. Per informazioni 338-7100-844. Ciao a tutti, vi invito ad un avvenimento eccezionale per la prima volta all'Arena del Folk, ci sarà un festival della fisarmonica con i migliori fisarmonicisti italiani. Vi aspetto.